Pazzagli era un uomo di vostra fiducia, adesso? Pazzagli è una persona che io ho sempre stimato e che continuo a stimare perché ha svolto come ruolo di amministratore di Fiera di Milano, ha svolto un lavoro eccellente, un ruolo che ha consentito alla Fondazione di diventare una parte fondamentale per la nostra città e per la nostra regione. Pensate ai vari interventi, all'ospedale in Fiera, all'accordo con la RAI, alla questione delle Olimpiadi. Di questa faccenda sono stupito perché io non sapevo assolutamente nulla di queste iniziative, di queste attività, non sapevo nulla di quello che i giornali ci dicono che sia successo. Ma per il suo Pazzagli deve fare un passo indietro? Ma guardi, a parte che ne parlerò con il sindaco e ci dovremmo incontrare perché la nomine è stata fatta a congiunta e quindi posso essere dopo aver parato col sindaco.